E' stato sequestrato dalla Guardia di Finanza a Bari un imponente carico composto da 80 chilogrammi di marijuana a bordo di un gommone proveniente dall'Albania e diretto nel Salento. I militari hanno provveduto all'arresto dei due scafisti di 46 e 18 anni dopo un lungo inseguimento nel canale di Otranto in cui i due avevano cercato di confondersi fra i tanti diportisti che navigano in quelle acque ma sono stati intercettati durante un'operazione di controllo delle unità del reparto operativo aeronavale di Bari in collaborazione con il gruppo aeronavali di Taranto. Il gommone lungo circa 5 metri avente due potenti motori mostrava bandiera italiana ma risultava privo di documenti. Il carico di stupefacenti che avrebbe fruttato ai due trafficanti più di 700 mila euro è stato in seguito sequestrato dai militari. Hanno collaborato le autorità di polizia albanesi e il nucleo di frontiera marittima, un reparto della Guardia di Finanza che opera a Durazzo.